Buongiorno, ci incontriamo nel video di oggi per parlare di un altro punto di Ago Puntura, il vaso concezione 7 in lingua cinese Yinxiao. Il vaso concezione 7 si localizza sulla linea mediana, uno zun sotto l'ombelico, quattro zun sopra la sinfesi pubica. Yinxiao tradotto in latino diviene copulazio Yin, che in italiano significa la riunione dello Yin. Yinxiao, come molti termini cinesi, necessitano di un equilibrio dinamico al fine di garantire salute o implementare resilienza. Vaso concezione 7 all'interno di questi obiettivi incrementa lo Yin. Ora vediamo le indicazioni cliniche per vaso concezione 7, almeno per come risultano dei testi antichi. Questo Ago Punto sostiene energicamente l'orbita funzionale Yin, rimuove freddo e rimuove freddo da vuoto. Vaso concezione 7 si utilizza in caso di stanchezza, affaticamento, vuoto dello Yin. Il punto si può utilizzare anche per i campi emozionali, per esempio in caso da paziente con ipopaura dovuta a carenza dello Yin. Il punto si può utilizzare nel trattamento dell'inzogno. Ma dobbiamo pensare a vaso concezione 7, soprattutto in caso di incubi. Il punto si può utilizzare anche nel paziente che è particolarmente irritabile. Vaso concezione 7 si utilizza in caso di freddo dovuto a carenza dello Yin. Il paziente lamenta freddolosità, estremità fredde, mani e piedi freddi, pallore, addome freddo, voce debole e si osserva dimagrimento pur mangiando. Il punto è utilizzato anche nei disturbi della sfera sessuale, l'infertilità in voi sessi, i disturbi di tipo ginecologico o andrologico. Il punto baso concezione 7 è indicato per quella categoria di disturbi che denominata nella tradizione cinese purcellus currens, che sono sintomi precisi dovuti a carenza dello Yin. Dolore addominale intenso, irritabilità da vuoto dell'energia, crampi, spasmi, diarrea e soprattutto lo Yang falso che batte in alto. Vaso concezione 7 si applica nel trattamento del dolore genitali, si applica nel sudore eccessivo ai genitali, soprattutto sermalo e odorante, si applica per i disturbi urinari tipo piuria, stranguria, disuria, ematuria, anuria eccetera eccetera, si applica nel trattamento del prurito ai genitali e è utile anche nel paziente che soffre di epistassi, soprattutto se ricorrente. Bene, con questo siamo alla fine del video di oggi, lasciate una domanda o un commento sarà mia cura rispondere a tutti. Spero di vedervi presto ancora, arrivederci!